Mi raccomando, mettele bene nel video. Buongiorno, quinta tappa. Oggi a quanto ho capito 31 km, 1000 di slivello e si arriva a Firenze. Oh, yes! Oh, mi freghi la foto, vada, vada, vada! Bene, grazie! Firenze Firenze Il cuore di più Tordana Quinta tappa, si vede Firenze quindi c'è molta motivazione per arrivarci, prima si passa da Fiesole e poi saranno due ore fino a Firenze di discesa sull'asfalto che faremo però molto volentieri. Firenze 10, da qui a Firenze. Inizierà l'asfalto, quindi sandali. Allora siamo a Fiesole e ora la nostra guida ci porterà a Firenze evitando spiegare brutte, ci fa accorciare non so come, la nostra guida ancora è con noi, l'abbiamo rapita e si va. Noi cantiamo tutti insieme cupoloni a lei, cupolo, cupolo, cupoloni a lei. In teoria da Fiesole a Firenze si può prendere un bel pullman di 1,50€ che si porta dritto dritto in piazza, ma noi no, dobbiamo farla per bene. quindi sei chilometri di asfalto e siamo lì, un'ora e mezza. Allora, siamo a Firenze, però sembriamo dei morti viventi. camminiamo a 1 all'ora, sono le 5 e mezza, dobbiamo arrivare alle 6 ma non ci arriveremo mai, arriveremo per le 6 e mezza, 7. Va bene, siamo a Firenze, quindi in territorio del lupo e tra mezz'ora, 40 minuti, 3 quarti d'ora arriviamo alla meta. Siamo in piazza San Marco, la nostra guida ha già detto il nome della piazza, questa è la chiesa. qui perché si passa col rosso, aiuto? Ho due anni perché Manuela ha la fama e è lenta, quindi per sbrigarci, perché ho fame, faccio così. Siamo qui al liceo classico Galileo di Lupo. Anche io andavo a Galileo, ma nella scuola media è il Reggio. Lì c'è il Duomo, ora ci andiamo, aspettiamo gli altri. Io ho fatto alle 8 e oggi sono andati via, cioè se non fossero andati via i tuoi vari... e poi erano i tuoi vari e poi i tuoi vari. Non hanno messo questo grosso. Arriva in piazza della signoria. Bella... bella prova, bella prova sul serio però eh ragazzi non mi fate scherzi, non è stata una via semplice E fu! Arrivò! Arrivò un pezzo alla signorìa di amore! Ce l'hai fatta tutta insieme! Difficilissima però tutta! Adesso non ho capito che stiamo facendo ma penso la direzione sia il bere e becchiamo anche gli altri perché gli altri sono arrivati a Firenze penso un'ora prima di noi Va bene amici montanari, siamo stanchi e felici, la via degli dèi è conclusa Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!